Musica Assessore Ermano Guerra, un giorno di festa, giorno della bandiera, dell'inno che anche quest'anno grazie a lei gli studenti della consulta provinciale hanno voluto festeggiare Sì, buon compleanno al nostro paese, all'Italia ed è bello che l'iniziativa muova dalla consulta provinciale degli studenti e quindi che siano protagonisti i ragazzi perché è a loro che affidiamo il nostro paese i valori e i valori dell'Italia Unite che si ritrovano intorno alla bandiera, all'inno nazionale e alla carta costituzionale ricordavo i ragazzi che la Costituzione in qualche maniera ha preso avvio l'idea di una carta costituzionale nata a Salerno intorno al primo governo dell'Italia liberata e quindi nel salone che questa mattina accoglie i ragazzi in festa per il nostro paese Quanto è importante che un messaggio del genere passi appunto dai ragazzi? Sono i destinatari di questi valori ed è bene che loro ne abbiano consapevolezza li costodiscano in maniera gelosa e li tramandino perché è scontato ricordare che intorno all'unità del paese si costituisce una comunità di pace di relazioni pacifiche internazionali e di pacifica convivenza con gli altri popoli e in un momento internazionale delicato come questo questi valori è particolarmente importante diffonderli Grazie! Grazie!